Amici di Moto.it, appassionati di moto mondiale, c'è una grandissima occasione per voi. Giovedì 15 maggio, alle mani in occasione del Gran Premio di Francia, intervisterò in esclusiva Marc Marquez. Ma la grande novità è che questa volta sarete voi a fare le domande. Quindi mandatele, mandatele numerose, le più svariate, non soltanto di tecnica, ma anche su Marc, sul personaggio, sulla scuola, su quello che volete. Qualsiasi domanda e noi la faremo a Marc Marquez per conto vostro. Ciao ciao, vi aspetto numerose.